Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per incidenti al chilometro 217 tra Sassomarconi e B1 variante in direzione sud. Sempre in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Aglio e Badia in carreggiata opposta tra Firenze Scandicci e Aglio e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In FIPD ricordiamo che sono in corso i lavori di riqualificazione tra Montelupo ed Empoli Est. In questa fase dei lavori, fino al 30 maggio, è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la chiusura della carreggiata in direzione Mare. Nell'almeno oltre la chiusura dello svincolo di Montelupo in direzione Mare sia in ingresso che in uscita in direzione Firenze e solo in ingresso FIPD. Oversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!